L'equilibrio è importante per essere in armonia con la nostra terra, con ciò che ha creato per sostenerci e proteggerci. Da terriccio organico biodegradabile coltivato in filiera, 100% italiana, nasce un sostegno per il tuo equilibrio, fonte di proteine, fibre e vitamina B. Fungo italiano certificato. Equilibrio per il tuo benessere.